Sei una persona che io ammiro, stimo, non sei un uomo violento, ovviamente mio padre e i miei sono la loro bambina e quindi non amano vedere qualcuno che abbia un atteggiamento oppressivo nei miei confronti e quindi questa era la reazione Comunque alla fine la conclusione è sempre la stessa, l'attrazione va bene, c'è stata, quello che vuoi, ero molto affascinata da te, è stato tutto molto bello, però mettiamo la parola fine finalmente anche perché ormai è anche un discorso praticamente sterile E questo, siamo persone diverse, per me finisce qui Anche per me Ok